buongiorno a tutti vediamo con questo video tutorial come ricercare gli interpelli delle scuole che richiedono docenti oppure personale ad amministrativo collaboratori scolastici o personale assistente tecnico che per supplenze di carattere anche annuale andiamo a vedere come trovare un interpello facciamo un esempio andiamo su google e scriviamo per esempio un ufficio scolastico territoriale un ust ust varese ad esempio andiamo sull'ust varese che ci dà proprio il riferimento del sito ed entriamo appunto nella pagina dell'ufficio scolastico territoriale di varese chiaramente questo si può fare per altre province come monza come bergmo soprattutto le province del nord ma anche le province del sud notiamo che in questi siti è stata aggiunta un'icona ecco vedete qua interpelli di ricerca per i supplenti questa icona questo tasto se è cliccato ci manda proprio in una pagina dove ci sono tutti gli interpelli per data cronologica per esempio l'ultimo interpello che l'ufficio scolastico di varese per esempio ha prodotto risale al 16 settembre interpello per una supplenza per l'anno scolastico 24 25 per la classe di concorso a 0 41 cioè informatica andiamo a vedere entriamo proprio nella pagina dell'interpello andiamo a scaricare il file dell'interpello e si aprirà immediatamente il file con l'interpello intanto l'interpello in questo caso è stato inviato dall'istituto statale di istruzione superiore carlo alberto dalla chiesa di sesto calende in varese ed è stato diciamo inviato a tutti gli uffici scolastici territoriali partendo appunto dall'usp di varese ma tutte le direzioni agli usr in italia in modo che vedete anche per esempio la direzione della calabria la direzione della sicilia ea conoscenza e può pubblicare l'interpello per la massima diffusione al pubblico e sul oggetto troverete che è l'interpello per una supplenza dell'anno scolastico 24 25 a seguito di esaurimento delle gradatori istituto esaurimento anche considerato che risultano esaurite le gps quindi le gradatori di istituto e degli istituti vicinori e quindi la scuola lancia questo interpello a cui allega come vedete dice intanto dice di che tipo di posto si tratta si tratta di un posto comune classe concorso 0 41 con un contratto annuale fino al 31 agosto 2025 un tipo di cattedra tutta interna e di corso diurno dunque da tutte le informazioni uno si legge per bene l'interpello e dice che tutti gli interessati sono tenuti a presentare c'è una scadenza ben precisa entrano oltre le ore 12 del 18 settembre 2024 dunque le ore 12 di domani la propria disponibilità al conferimento della supplenza inviando all'indirizzo e dall'indirizzo istituzionale della scuola un modello allegato dunque scendendo in basso si troverà il modello allegato però prima dice spiega il l'interpello che si applicheranno in caso di mancata accettazione o presa di servizio le sanzioni dell'articolo 14 dell'om numero 88 24 cioè nel caso in cui il docente aderisce all'interpello ma poi non accetta o non prende servizio verrà sanzionato non potrà partecipare ad altre manifestazioni di interesse successive quindi si va al modulo vedete il modulo di presentazione che viene compilato in anche world stesso viene compilato in tutte le sue parti guardatelo con attenzione compilate e direte di avere un'età compresa tra i 18 e 67 anni di godere dei diritti civili e politici nel paese di cittadinanza insomma compilerete tutto il modulo e lo andrete allegherete al modulo il vostro curriculum professionale debitamente sottoscritto e copia del proprio documento di identità è chiaro che gli interpelli non sono tutti uguali dunque vanno letti con attenzione e poi inviati per con la procedura che vi viene diciamo richiesta dallo stesso interpello speriamo che questo tutorial sia utile a tutti i nostri telespettatori seguiteci ancora perché tratteremo proprio tematiche come quello degli interpelli nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it nelle nostre dirette dei nostri social facebook youtube e instagram arrivederci grazie a tutti